Buon pomeriggio e benvenuti alla presentazione dei corsi magistrali del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione. Sono Elena Mazzoleni, referente dell'attività di orientamento del Dipartimento dove insegno storia del teatro. Passiamo alla prima presentazione, quindi avviciniamo lo sguardo e lo focalizziamo su il corso magistrale in culture moderne comparate. Lascio dunque la parola al presidente del corso di laurea magistrale in culture moderne comparate, il professor Luca Carlo Rossi. Grazie. Bene, buon pomeriggio e quindi benvenuti a questa presentazione. Avete già visto un video che ha mostrato con dovizia di particolari i nostri luoghi di studio e di vita e penso sia stato molto utile soprattutto per gli studenti che non sono già nostri studenti per i corsi della triennale e quindi anche per loro ci sarà una serie di immagini che mostrerò all'inizio di questa serie di slide che ci faranno insomma entrare un po' anche nel clima fisico del luogo in cui viviamo, studiamo e abbiamo uno scambio molto intenso e diretto. Ecco anche questo è un elemento caratterizzante direi della nostra università. La dimensione è tale per cui lo scambio tra docenti e discenti è davvero vicino, facilitato e sempre estremamente piacevole e stimolante. Ecco quella che voi vedete è la situazione di partenza. Il corso di laurea triennale in lettere ovviamente è il punto di partenza che equivale alla dizione ministriale L10 e che quindi può essere naturalmente essere già stato acquisito presso altri atenei. Invece la seconda parte, il corso di laurea magistrale che nel formulario ministriale è LM14, ha il titolo di culture moderne comparate. È un titolo già parlante perché ci fa vedere come tutte le specificità sono declinate all'interno di una visione complessiva che non le tiene separate l'una dall'altra, ma mira proprio a sottolineare le valenze interdisciplinari e intermodali che esistono tra le varie discipline che vengono proposte agli studenti. All'interno di culture moderne comparate abbiamo poi una suddivisione in due momenti ben precisi. Allora il primo è il curriculum didattico storico filologico, DSF nel nostro frasario interno, che costituisce di fatto lo sviluppo del curriculum letterario della laurea triennale. Per quanto riguarda invece il curriculum didattico artistico letterario, si tratta appunto del proseguazione del curriculum moda arte design e cultura visiva. Sto passando le slide perché dalla regia mi dicevano che non si vedono scorrere. Penso che adesso sia possibile vederle. Diversamente chiedo che ci sia un intervento dall'esterno. Bene, allora proseguo e come vi ho promesso prima vi mostro qualche immagine delle nostre sedi perché sono più di una, tutte molto vicine tra di loro, collegate da una strada leggermente in salita che quindi vi garantisce anche un po' di moto e soprattutto c'è la gradevolezza dei luoghi e come vedete partiamo da un palazzo rinascimentale e poi arriviamo invece alla sede completamente rifatta del via Pignolo e la cosa importante da dire anche che tutte le nostre aule e le zone di studio sono attrezzate per poter avere a disposizione tutti i collegamenti multimediali che ormai fanno parte del nostro quotidiano. Ecco qui invece è la zona della biblioteca sopra i chiostri di Sant'Agostino e anche questo è un luogo estremamente importante per gli approfondimenti per i quali ovviamente internet non basta ma bisogna ritornare sempre all'antica sistema di utilizzo dei libri. Ecco come vedete le distanze sono estremamente prossime. Detto questo vi mostro appunto quali sono le linee insomma sulle quali è stato costruito il nostro corso di culture moderne comparate. Infatti il nostro corso vuole dare una preparazione su più ambiti che sono la filologia, la letteratura, la storia, la storia dell'arte, la filosofia, la letteratura, la critica letteraria e artistica che riguarda il mondo occidentale e una attenzione è data in primo luogo alle maggiori civiltà europee occidentali e alla presenza dell'America e l'escursione cronologica è estremamente vasta perché andiamo dall'antichità classica fino all'età contemporanea. Uno degli elementi da sottolineare di novità nel nostro corso di laurea è il progressivo presenza anche di insegnamenti che hanno a che fare con il mondo antico greco. Al centro del percorso c'è appunto l'analisi dei fenomeni comunicativi delle aree geografiche di questi periodi storici di ambiti e dei generi espressivi distanti tra loro e diversi ma sempre in in costante dialogo. Ci sono poi due percorsi dei quali avevo già accennato prima e cominciamo a vedere più da vicino quello che si chiama didattico storico filologico. Qui l'accento batte soprattutto sul campo della filologia, della linguistica, della letteratura italiana e le letterature europee. Teniamo presente che questi ambiti sono sempre in dialogo tra di loro e poi ancora il campo della storia antica e moderna e infine quelle delle arti. L'altra novità che stiamo approfondendo progressivamente è quella di offrire una serie di preparazioni anche nell'ambito delle tecnologie applicate allo studio umanistico, le cosiddette digital humanities che stanno riscuotendo un particolare interesse presso gli studenti e che ormai hanno alle loro spalle una tradizione abbastanza lunga e sempre in continua evoluzione. Tra l'altro l'utilizzo di queste nuove tecnologie ci permette anche di acquisire delle competenze specifiche che saranno anche parte del bagaglio di formazione del nostro laureato specialistico e che lo renderanno particolarmente interessante per l'utilizzo presso istituzioni e anche presso le aziende. Il nostro curriculum didattico storico filologico inoltre consente di completare la raccolta dei crediti formativi necessari per l'accesso all'insegnamento di italiano storia geografia latino nella scuola secondaria inferiore e superiore. La quantità dei crediti necessari è variabile a seconda della legislazione vigente naturalmente comunque noi siamo completamente coperti con la proposta formativa che vi sto presentando. E passiamo adesso all'altro curriculum quello didattico artistico letterario. Qui l'accento invece batte, come dice il titolo stesso, sulle arti. Le arti che vanno dal tempo, dal medioevo all'età moderna, all'età di articolazione e articolazione nelle istituzioni pubbliche e private. Ovviamente le arti sono affiancate dallo studio delle discipline letterarie, dello spettacolo e dei media, quindi l'intero spettro dell'ambito visuale. E accanto agli insegnamenti artistico letterari e mediologici si presentano dei percorsi interdisciplinari relativi alla gestione e organizzazione delle istituzioni e delle imprese e alle nuove tecnologie applicate alle arti. Quindi anche qui un'attenzione all'applicabilità insomma delle conoscenze teoriche. Inoltre gli studenti di questo curriculum potranno acquisire i crediti formativi necessari per accedere alla classe di concorso per l'insegnamento secondario della storia dell'arte. Ecco gli obiettivi formativi sono appunto una solida formazione nel campo della filologia, della letteratura italiana e straniera, della storia antica, moderna e contemporanea, delle arti e della loro gestione in una prospettiva interdisciplinare che è mirata anche alla dimensione della didattica. Quindi c'è anche un'attenzione verso chi poi si avvierà alla professione di insegnante perché possa già ragionare anche in termini di applicabilità delle conoscenze all'interno di una trasmissione del sapere. È anche importante l'attenzione che viene rivolta allo studio dei meccanismi della produzione e della comunicazione artistico-letterale. e mediologica. Infatti abbiamo una serie di insegnamenti che riflettono proprio sui sistemi che sono alla base di queste modalità di comunicazione. E attraverso queste poi si arriva anche a una preparazione nel campo delle nuove tecnologie applicate alle discipline umanistiche. Per quanto riguarda lo studio delle lingue che è fondamentale, permette inoltre di consolidare la conoscenza di una delle lingue europee fra inglese, francese e tedesco. Ecco, quali sono gli sbocchi professionali? Come vedete ci sono alcune categorie generali. Allora, prima di tutto quello che c'è già dal titolo dei nostri due curricula è il mestiere principe, cioè quello dell'insegnamento. Va detto una cosa molto importante, che nessuno dei corsi, non solo nostri, ma in tutta Italia, di lauree magistrali destinate all'insegnamento non sono lauree abilitanti. ossia danno l'insieme dei crediti necessari per accedere ai concorsi, come appunto previsto dalla legislazione vigente, ma poi è previsto un esame abilitante gestito direttamente dal Ministero. Quindi questa formazione è fondamentale per accedere ai concorsi. Accanto all'insegnamento poi c'è la ricerca, la ricerca nell'ambito delle scienze umanistiche, il che è possibile accedendo per esempio ai dottorati di ricerca che anche la nostra università presenta e richiedono appunto una approfondita conoscenza all'interno dell'ambito umanistico. Altra professione è quella del consulente storico artistico, una professione che sta avendo un interessante sviluppo presso organizzazioni e fondazioni, sia pubbliche sia private, presso le aziende di consulenza e di produzione di beni e servizi, senza dimenticare poi anche l'industria e il turismo vero e proprio. Un altro tipo di professione è quella della scrittura nell'ambito editoriale oppure nell'industria culturale multimediale, nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche. Molti studenti chiedono anche in relazione alla professione del giornalista, sicuramente la nostra laurea magistrale dà le competenze per poter avvicinarsi a questo mondo e anche qui occorre ricordare che poi esiste un esame abilitante. Parlando delle professioni è quasi inevitabile arrivare anche a parlare di un elemento importante che compare nelle nostre lauree, cioè le collaborazioni, i laboratori e i tirocini sono tutte attività che permettono di mettere poi alla prova in concreto le conoscenze che vengono acquisite e poi consolidate nel corso della carriera di studio. Quindi abbiamo da un lato la possibilità di collaborare attivamente con i gruppi di ricerca e di studio che fanno parte del nostro corso di laurea e che sono costituiti dai docenti, dai dottori di ricerca e che si muovono direttamente in ambiti ben precisi. Qui per esempio vedete che si parla di una ricerca di base, di una catalogazione digitale dei beni artistici, letterari e culturali e quindi questo è un primo approccio all'applicazione di ciò che si conosce. Esistono poi dei laboratori sostitutivi di tirocinio, il che però mi obbliga a parlare prima del tirocinio. Il tirocinio è una vera e propria esperienza lavorativa che si può svolgere o in presenza o in smart working, presso aziende, istituzioni, scuole, progetti di digital humanities, fondazioni, istituzioni, musei che sono particolarmente vivaci nell'ambito di Bergamo e del suo territorio. Queste istituzioni, aziende, scuole hanno una convenzione col nostro Ateneo per poter appunto accogliere gli studenti che si vogliono cominciare a misurare con la realtà lavorativa legata alla loro propensione particolare verso uno di questi aspetti che vi proponiamo e di conseguenza questo è un momento di particolare importanza nella formazione del nostro laureato magistrale. Passo adesso alla successiva immagine che ci parla della internazionalizzazione e tutto quanto vi ho detto ha bisogno poi di essere immerso all'interno di un panorama che non si ferma alla nostra nazione ma rientra in un panorama internazionale e questo è possibile non solo per gli accordi che esistono tra i nostri docenti e quelli delle altre ambiti di ricerca all'estero ma addirittura abbiamo anche la possibilità di proporre dei soggiorni di formazione e non solo linguistica presso diverse università collegate con la nostra nella rete Erasmus e qui nonostante le difficoltà che ci sono state in questi ultimi anni occorre dire che sempre di più si sta invece muovendo questo panorama per cui i soggiorni di formazione all'estero e i tirocini internazionali sono particolarmente richiesti in questo momento e coinvolgono non solo la Unione Europea ma anche realtà extra Unione Europea. Ecco questa ultima immagine si poteva forse anche mettere all'inizio ma direi che va bene anche qui anche se ha a che fare con il primo passo con il quale uno studente che vuole entrare nella laurea magistrale deve confrontarsi. Per essere ammessi alla laurea magistrale e questo vale non solo per quelle che vi sto presentando ma anche per quelle che seguiranno occorre avere un diploma di laurea triennale o di un altro titolo equivalente estero e poi ci vuole il possesso di una serie di requisiti ben precisi che garantiscano la vostra preparazione all'interno di aree disciplinari ben precise e qui c'è il dettaglio non sto adesso a guardarlo perché è inutile entrare in questi particolari però quando sarà il momento voi troverete ogni informazione necessaria nel sito della nostra università e nelle guide che vengono preparate. Una volta appurati questi requisiti segue poi una verifica in forma di colloquio per l'adeguata preparazione personale di ciascuno non si tratta di un esame si tratta di un colloquio individuale nella quale si discute relativamente agli obiettivi che lo studente ha qual è la migliore scelta per esempio all'interno dei curricula proposti e poi occorre una verifica di competenze linguistiche che sono richieste pari al livello internazionale B2 ecco questo è sostanzialmente quanto vi volevo dire a grandi linee e qui vedete l'indirizzo web dei nostri corsi di laurea e poi rimaniamo in attesa per la parte finale e soddisfare a vostre eventuali richieste più precise quindi penso di aver concluso il mio compito